La cosa importante che volevo far notare è che tutto è rimasto allo stato suo dello scorso anno. Noi come protezione civile comunale l'avevamo fatto rilevare un po' di me, questa partenenza che tra l'altro era andato molto bene con le scorse di protezione civile, però tutto è rimasto allo stato suo. Se dobbiamo fare un'altra pioce e anche a livello 14 ci troviamo in una situazione veramente grandissima. Quindi il mio successo è proprio bello di accelerare e eliminare questa parola della burocrazia. I comuni sono in grandi difficoltà, lo sappiamo, non per colpa loro, però il territorio non aspetta. Quindi il clima fa il suo corso e vediamo di darci a velocizzare questa possibilità. Ringrazio anche l'Agnostrazione per darci supporto sempre, per tutte le apprezzature che ci permettono di intervenire in una situazione di emergenza. Grazie.